Urra! Urra per l'ammiraglio, Peter! Silenzio! Tutti i vostri posti! Dobbiamo salvare! Controbraccio le gabbie! Ma, ma Peter? Oh, scusate, ammiraglio, Peter. Ai vostri ordini, signora. Posso chiedervi, comandante, dove siamo diretti? A Londra, signora. Oh, Peter! Gianni! Michele! Andiamo a casa! Manovrate l'argano! Salvate l'ancora! Polvere di pata! Sono proprio contenta che tu abbia cambiato idea su Wendy. Tu ho potuto ancora una bambina. Oh, Mary, sei bene. Che non scrido mai sul serio. Vero, Nana? Wendy! Wendy, ma che cosa stai facendo là? Oh, mammina! Siamo tornati! Tornati? Meno i bimbi sperduti. Non ne avevano ancora voglia. Sperduti? Voglia? Di crescere. E hanno fatto ritorno all'isola che non c'è. Che non c'è? Sì, ma io ce l'ho. Che cosa hai? Voglia di crescere. Oh, certo! Certo, mia cara! A suo tempo! Dopotutto io credo che... Sai, mammina, è stato davvero straordinario. Trilli, le sirene e Peter Pan, il più straordinario di tutti. Persino quando siamo stati rapiti, io... Rapiti? Io sapevo che Peter Pan ci avrebbe salvati. Poi l'abbiamo chiamato Bacalà. Oh, Capitano Uncino, voglio dire. E poi abbiamo volato nel cielo su una nave. Mary, io vado a letto. Mammina, dì la verità, non è meraviglioso? Guarda come pilota la nave. Oh, Genore! Oh, Genore! Che altro c'è, Mary? Oh, Nana, guardala! È molto strano. Ho la sensazione di averlo già visto, quel bascello. Tanto tempo fa, quando ero bambino, a Genore. Papà! Amico Magickè! Ha! Maありがとうございました! Amico Magickè! Ho! Ma quindi 현재! Amico Magickè! Amico Magickè! Grazie a tutti.